storie di simbad il marinaio sire sotto il regno del califo harun al rashid di cui vi ho parlato viveva a bagdad un povero facchino chiamato hindbad che un giorno mentre faceva un caldo eccessivo trasportava un pesantissimo carico da un capo all'altro della città affaticato dal cammino fatto giunse in una strada dove spirava un dolce zeffiro e aveva il lastricato d'acqua e di rose non potendo desiderare un luogo più favorevole per ripararsi e rinfrancarsi posò a terra il suo carico e vi si sedette sopra vicino ad un gran palazzo e gli presto si compiacque ad essersi fermato in quel punto perché il suo dorato fu dolcemente solleticato da un profumo squisito di legno d'aloe e di pastiglie che usciva dalle finestre di quel palazzo e che mescolandoci con l'odore dell'acqua di rose finiva per profumare l'aria inoltre udì un concerto di diversi strumenti accompagnato da canto armonioso di molti usignoli ed altri uccelli tipici del clima di bagdad tale deliziosa melodia e il fumo di molte specie di vivande che si faceva sentire gli fecero pensare che vi fosse là qualche festino sontuoso volle sapere chi abitasse in quella casa e allo scopo di soddisfare la sua curiosità si avvicinò ad alcuni servi che vide il subluscio e domandò ad uno di essi come si chiamasse il padrone di quel palazzo e che rispose quello voi abitate a bagdad e ignorate che questa è l'abitazione del signor sindibad il marinaio di quel famoso viaggiatore che percorse tutti i mari illuminati dal sole il facchino che aveva udito parlare delle ricchezze di sindibad non poté trattenersi dall'invidiare un uomo la cui condizione era altrettanto felice quanto la sua era deplorevole e con lo spirito esacerbato alzò gli occhi al cielo e disse ad alta voce potente creatore di tutte le cose considerate la differenza che passa tra sindibad e me io sopporto tutti i giorni mille fatiche e mille mali e a stento posso nutrire me e la mia famiglia di pane d'orzo scadente mentre il felice sindibad spende con profusioni immense ricchezze e conduce una vita piena di delizie che ha egli fatto per meritarsi da voi un destino così bello che ho fatto io per meritarne uno così doloroso era ancora occupato nei suoi tristi pensieri quando vide uscire dal palazzo un servo che venne a prenderlo per un braccio dicendogli seguitemi il signor sindibad mio padrone vuol parlarvi si può facilmente immaginare come rimase meravigliato Hindbad dopo il discorso che aveva fatto temeva che sindibad volesse fargli qualche brutto tiro per cui volle scusarsi dicendo di non poter abbandonare il suo carico in mezzo alla via ma il servo rassicurandolo in proposito lo condusse con sé e lo introdusse in una gran sala dove erano molte persone intorno ad una tavola coperta ad ogni specie di vivande delicate al posto d'onore sedeva un personaggio grave ben fatto e venerabile dalla lunga barba bianca e dietro a lui erano in piedi molti ufficiali e servi intenti a servirlo questo personaggio era sindibad il facchino il cui turbamento si accrebbe alla vista di tanta gente ed un banchetto così splendido salutò tremante la brigata sindibad gli disse di avvicinarsi e dopo averlo fatto sedere alla sua destra gli servì il pranzo lui stesso alla fine del pasto sindibad osservando che i suoi convitati non mangiavano più volgendosi a Hindbad che trattò da fratello secondo il costume degli arabi quando si parlano familiarmente gli domandò come si chiamasse e quale fosse la sua professione signore gli rispose io mi chiamo Hindbad sono reato di vedervi rispose sindibad e tutta la brigata vi vede anch'essa con piacere ma desidererei sentirvi ripetere quello che dicevate poc'anzi in strada sindibad nel mettersi a tavola aveva udito tutto il discorso da una finestra e perciò l'aveva fatto chiamare a questa domanda Hindbad piegò la testa e disse signore vi confesso che la mia stanchezza mi aveva messo di cattivo umore e mi sfuggì qualche parola indiscreta di cui vi prego di perdonarmi non crediate riprese sindibad che io sia tanto ingiusto ad asserbarvene rancore mi metto nella vostra situazione invece di rimproverare le vostre mormorazioni io vi compiango ma bisogna togliervi dall'errore in cui pare siate caduto voi immaginate certo che io abbia acquistato senza pena e fatica tutte le comodità e il riposo di cui mi vedete godere disincannatevi io non sono arrivato al mio felice stato se non dopo aver sopportato per più anni tutte le fatiche del corpo e i travagli dello spirito sì miei signori soggiunse volgendosi a tutta la brigata posso assicurarvi che ho sopportato fatiche così grandi da soffocare negli uomini più avidi di ricchezze il desiderio di traversare i mari per acquistarle voi forse avete udito parlare confusamente delle mie strane avventure e dei pericoli corsi sui mari durante i miei tre viaggi in ogni modo poiché l'occasione mi si offre ve ne farò un fedele racconto siccome sindibad voleva raccontare la sua storia specialmente a causa del facchino prima di cominciare ordinò che si facesse portare il carico di costui a destinazione dopodiché parlò in questi termini primo viaggio io avevo ereditato dalla mia famiglia beni considerevoli ma ne dissipai la maggior parte negli stravizi ravvedutomi dal mio accecamento rientrai in me stesso e mi resi conto che le ricchezze sarebbero presto finite se avessi continuato ad amministrarle con così poca saggezza pensai ancora al consumo sregolato che facevo del tempo la cosa più preziosa del mondo considerai poi che il male peggiore per un uomo è la povertà nella vecchiaia e mi ricordai di quelle parole di Salomone udite altra volta da mio padre che è meno doloroso trovarsi nella tomba che nella miseria commosso da tutte queste riflessioni raccolsi gli avanzi del mio patrimonio e vendetti all'incanto in piano mercato tutti i miei beni mobili mi avvicinai poi ad alcuni mercanti che trafficavano per mare e consultai quelli che mi parvero capaci di darmi dei buoni consigli volendo trarre profitto dal poco denaro che mi restava presa dunque questa risoluzione non tardai a porla in atto andai a Bassora e qui mi imbarcai con molti mercanti su una nave che equipaggiammo a spese comuni sciogliemmo la vela e prendemmo la via delle indie orientali nel corso della nostra navigazione applaudammo in molte isole dove vendemmo le nostre mercanzie un giorno ci sorprese la bonazza proprio di fronte a una piccola isola quasi a fior d'acqua e simile a un prato il capitano feccia mainare le vele permise di prender terra alle persone dell'equipaggio e io fui del numero di quelli che sbarcarono ma mentre ci divertivamo a bere e a mangiare e a rinfrancarci della fatica del mare l'isola tutto a un tratto tremò e diede una terribile scossa sulla nave si accorsero di ciò che avveniva e ci gridarono di imbarcarci subito perché quella che a noi sembrava un'isola era il dorso di una balena i più pronti si salvarono nella scialuppa altri si gettarono a nuoto io ero ancora sull'isola o piuttosto sulla balena quando anch'essa si tuffò nel mare ed ebbe appena il tempo di attaccarmi a un pezzo di legno portato dal bastimento per accendervi il fuoco quando il capitano dopo aver ricevuto a bordo la gente che era nella scialuppa e raccolto alcuni di quelli che nuotavano approfittando ad un vento favorevole se ne andò senza curarsi di me né punto né poco restai dunque in balia delle onde spinto ora da un lato ora dall'altro e difendendo contro di esse la mia vita per tutto il giorno e la notte appresso non avevo più forze e disperavo di salvarmi quando un cavallone per avventura mi gettò sopra un'isola la riva era alta e scoscesa e avrei durato molta fatica a salirvi se alcune radici d'albero che la fortuna sembrava avere conservate in quel luogo per mia salvezza non mi avessero agevolato mi stesi allora per terra e restai mezzo morto finché non fece giorno e non spuntò il sole allora sebbene fossi debolissimo a cagione della fatica del nuoto e perché non avevo preso alcun nutrimento dal giorno precedente non tralasciai di trascinarmi per trovare delle erbe buone da mangiare ne rinvenni alcune ed ebbi la fortuna di incontrare una sorgente di limpidissima acqua che giovo molto a rifocillarmi essendomi tornate le forze mi inoltrai nell'isola giungendo in una bella pianura dove scorsi una cavalla che pascolava mentre l'ammiravo udì la voce di un uomo che giungeva da sottoterra poi quell'uomo apparve ed avvicinatosi a me domandò chi fossi io gli narrai le mie avventure e dopo ciò egli prendendomi per mano mi fece entrare in una grotta dove c'erano alcuni suoi compagni manzai alcune vivande che essi mi offrirono poi avendo domandato loro che cosa facessero in quel luogo deserto mi risposero che erano palafrenieri del re Mirajan sovrano di quell'isola che ogni anno nella medesima stagione avevano l'abitudine di condurre là la cavalla del re per farla montare da un cavallo marino che il medesimo dopo averla montata tentava di divorarla ma che loro lo impedivano con le loro grida obbligandolo a rientrare nel mare aggiunsero che sarebbero partiti l'indomani e che se io fossi arrivato un giorno più tardi sarei infallibilmente perito perché le abitazioni erano molto lontane mentre mi intrattenevo in tal modo il cavallo uscì dal mare come mi avevano detto si gettò sulla cavalla la montò e voleva poi divorarla ma al gran rumore che fecero i palafrenieri abbandonò l'assalto e corse a tuffarsi in mare l'indomani essi si incamminarono verso la capitale dell'isola con la cavalla e io li accompagnai al nostro arrivo il re Mirajan a cui fui presentato mi domandò chi fossi e per quale avventura mi trovassi nei suoi stati quando ebbe appagato la sua curiosità mi disse che prendeva molta parte alla mia sventura e nel medesimo tempo ordinò di aver cura di me e di fornirmi di quanto avrei avuto bisogno ciò fu eseguito in modo tale che non ebbi che da lodare la sua generosità e l'esattezza dei suoi ufficiali essendo io mercante frequentai le persone della mia professione cercai particolarmente quelli che erano stranieri tanto per avere da loro notizia di Bagdad quanto per trovarne alcuno con cui potessi ritornarvi essendo la capitale del re Mirajan situata sulle rive del mare vi è un bel porto dove approdono ogni giorno navi delle differenti nazioni del mondo io cercavo anche la compagnia dei sapienti delle indie e mi dilettavo nel sentir riparlare ma ciò non mi impediva di fare la corte al re né di intrattenermi coi governatori essi mi facevano mille domande sul mio paese e dal canto mio volendo istruirmi sui costumi e sulle leggi dei loro stati domandavo quanto mi sembrava degno di curiosità vi è sotto il dominio del re Mirajan un'isola chiamata Kabil dove mi disse si ascolta tutte le notti un suono di cembali per cui i marinai credono che vi dimori dei jals ebbe desiderio d'essere testimonio di quella meraviglia e scorsi nel mio viaggio dei pesci lunghi cento e duecento cubiti i quali fanno più paura che male e che si fanno fuggire battendo sopra una tavola a mio ritorno trovandomi un giorno al porto vide approdare un naviglio dopo che fu all'ancora incominciò a scaricare le mercanzie e i negozianti a cui appartenevano le facevano trasportare nei magazzini gettando allora lo sguardo su quelle balle e sullo scritto che indicava a chi appartenevano vi scorsi il mio nome e dopo averle attentamente esaminate non ebbi dubbio fossero quelle che avevo fatto imbarcare sulla nave quando mi ero imbarcato a Bassora riconobbi anche il capitano ma siccome ero persuaso che mi credesse morto mi avvicinai domandandogli a chi appartenessero quelle balle mi rispose avevo a bordo un mercante di Baghdad chiamato Sindibad un giorno in cui eravamo vicini a un'isola o almeno così ci sembrava scese con molti passeggeri ma invece di un'isola era una balena di enorme grandezza addormentata a fior d'acqua essa non appena si sentì scottare dal fuoco che era stato acceso sul dorso per far da mangiare cominciò a scuotersi poi si tuffò in mare la maggior parte delle persone che vi erano sopra negarono e lo sventurato Sindibad fu tra questi queste balle erano due e io ho deciso di venderle e se incontrerò qualcuno della sua famiglia restituirò il denaro che ne avrò ricavato capitano gli disse allora io sono quel Sindibad da voi creduto morto e queste balle sono le mie mercanzie quando il capitano del vascello mi odì parlare così grandio esclamò di chi fidarsi oggi non v'è più buona fede negli uomini ho veduto perire con i miei propri occhi il Sindibad quale udacia a vedervi sembra che siate un uomo probo e intanto dite un'orribile falsità per impadronirvi dai beni che non vi appartengono abbiate abbiate pazienza risposi il capitano e fatemi il favore di ascoltare ciò che sto per dirvi ebbene adesso giunse parlatevi ascolto gli raccontai allora in quale modo mi fossi salvato e per quale avventura avessi incontrato i palafrenieri del re Mirajan i quali mi avevano condotto a corte fu scosso dal mio discorso ma fu subito persuaso che non era un impostore poiché giunsero persone dalla nave le quali mi riconobbero e mi fecero molti complimenti manifestandomi la gioia che provavano nel rivedermi infine mi riconobbe anche lui e abbracciandomi mi disse non posso dimostrarvi abbastanza il piacere che provo nel rivedervi ecco il vostro capitale prendetelo esso vi appartiene fatene quello che meglio vi piace io lo ringraziai lodandolo della sua probità e per dimostrargli la mia gratitudine lo pregai di accettare alcune merci ma egli le rifiutò scelsi ciò che vi era di più prezioso nelle mie balle e lo regalai al re Mirajanna siccome questo principe conosceva la disgrazia avvenutami domandò dove avessi preso cose tanto rare e io gli raccontai per quale avventura le avessi recuperate e lui ebbe la bontà di mostrarne gioia accettò il mio dono e me ne fece in cambio dei più considerevoli dopo di ciò presi commiato e mi imbarcai sul medesimo naviglio ma prima del mio imbarco barattai le mercanzie che mi restavano con altre del paese portai con me legno di aloe sandalo canfora noce moscata garofano pepe e zenzero passammo per molte isole ed approdammo infine a Bassora da dove giunsi in questa città col capitale di centomila dinar la mia famiglia mi ricevette e io la rividi con tutto lo slancio che può produrre un'amicizia viva e sincera comprai schiavi dell'uno e dell'altro sesso bei terreni e costruì una gran casa e fu così che mi stabilì risoluto a dimenticare i mali sofferti e a godere dei piaceri della vita sindi bud essendosi fermato a queste parole ordinò ai musici di cominciare i loro concerti interrotti col racconto della sua storia si continuò a mangiare e a bere sino a sera e quando fu tempo di ritirarsi sindi bud si fece portare una borsa di cento dinar e dandola al facchino disse prendete hindbud andate a casa vostra e ritornate domani a sentire il seguito delle mie avventure il facchino si ritirò confuso dell'onore e del dono ricevuto il racconto che ne fece a casa piacque molto alla moglie ai figli di lui i quali ringraziarono il dio del bene fatto loro dalla providenza per mezzo di sindi bud il dono seguente sindi bud si vestì più decentemente del solito e tornò dal viaggiatore generoso il quale lo ricevette con lieto viso e gli fece mille gentilezze appena furono giunti i convitati si apparecchiò la tavola e finito il pasto sindi bud volendosi alla brigata disse signori vi prego di prestarmi attenzione e di ascoltare le avventure del mio secondo viaggio essendo esse molto più interessanti di quelle del primo tutti tacquero e sindi bud parlò così io avevo deciso dopo il mio primo viaggio di passare tranquillamente il resto dei miei giorni a Baghdad come ebbi occasione di dirvi ieri ma dopo qualche tempo cominciai ad annoiarmi di una vita oziosa e fui preso di nuovo del desiderio di viaggiare e commerciare comprai le mercanze opportune per il traffico che mi ero prefisso e partii una seconda volta con altri mercanti di cui era nota la probità ci imbarcammo su un buon naviglio e dopo esserci raccomandati a dio sciogliemmo le vele andando d'isola in isola facevamo scambi vantaggiosissimi essendo un giorno sceso con altri compagni in un isolotto mentre gli altri si divertivano a cogliere fiori e frutta io presi le mie provviste e mi sedetti vicino a un ruscello all'ombra di un albero fece un buonissimo pasto poi preso dal sonno mi addormentai ma al mio risveglio non vidi più il bastimento all'ancora fui molto stupito disse Cindy Budd e non vedere più la nave ancorata non sai guardai dappertutto e non scorsi un solo mercante di quelli che erano scesi nell'isola con me lascio immaginare a voi le riflessioni che feci credetti di morire di dolore ma dai grida spaventevoli mi battei la testa e mi gettai per terra restando per molto tempo immerso in una mortale confusione di pensieri l'uno più tetro dell'altro e improverandomi cento volte di non essermi accontentato del mio primo viaggio se non che i miei lamenti erano inutili e il mio pentimento fuori di proposito finalmente mi rassegnai al volere di Dio e senza sapere quel che sarebbe avvenuto di me salì su un grande albero da dove osservai tutto intorno per vedere di scoprire qualche cosa che potesse darmi una speranza di salvezza volgendo gli occhi sul mare non scorsi che acqua e cielo ma avendo osservato dalla parte di terra qualche cosa di bianco scesi dall'albero e quel viveri rimastimi dirassi da quella parte ai miei passi quando fui a una certa distanza osservai che quella cosa bianca era un globo di un'altezza e di una grossezza prodigiose avvicinato mi lo toccai e lo trovai levigatissimo girai intorno per vedere se vi fosse qualche apertura ma non ne scorsi alcuna e mi parva impossibile potervi salire su tanto era levigato poteva misurare cinquanta passi di circonferenza il sole era vicino al tramonto e l'aria si oscurò a un tratto come se fosse stata coperta da una densa nube io fui stupito da quella oscurità lo fui ancora di più quando mi accorsi che era causata da un uccello di straordinaria grandezza il quale volando avanzava verso di me mi ricordai di un uccello chiamato Arruc di cui avevo spesso sentito parlare dai marinai e compresi che il grosso globo era un uovo di quell'uccello infatti scese e vi si pose sopra come per covarlo vedendolo venire io mi ero talmente avvicinato all'uovo che mi trovai davanti a una delle zampe dell'uccello che era grossa quanto un tronco d'albero mi legai a quella zampa con la tela del mio turbante sperando che quando il Ruc avesse ripreso il volo mi avrebbe portato fuori di quell'isola disabitata difatti dopo aver passata così la notte fatto sigiorno l'uccello prese il volo e mi sollevò così in alto che io non vedevo più la terra poi discesa un tratto con grande rapidità quando si posò ed io mi vidi a terra sciolsi subito il nodo che mi teneva vinto alla sua zampa non appena ebbi terminato di slacciarmi lui colpì col becco un serpente di una lunghezza smisurata lo prese e subito se ne volò via il luogo dove mi lasciò era una valle profondissima circondata da montagne altissime questo fu un nuovo impaccio per me e paragonandolo con l'isola disabitata trovai di non aver guadagnato nulla nel cambio camminando per quella valle osservai che la disseminata di diamanti dei quali alcuni erano di meravigliosa grandezza ebbi molto piacere nel guardarli ma subito vidi molti esseri che diminuirono molto il mio piacere era un gran numero di serpenti così grossi e lunghi da potere ognuno di essi inghiottire un elefante durante il giorno si ritiravano nei loro antri dove si nascondevano a causa del ruc loro nemico e uscivano solo di notte trascorsi il giorno passeggiando per la valle riposandomi di tratto in tratto nei luoghi più comodi intanto il sole tramontò e al sopraggiungere della notte mi riterai in una grotta dove credevo di essere al sicuro chiusi chiusi l'entrata che era bassa e stretta con una pietra grossa abbastanza per garantirmi dai serpenti e ce n'hai con parte delle mie provviste si sentiva intorno il sibilare dei serpenti che cominciavano a ricomparire il loro sibilo terribile mi procurò un tremendo spavento e non mi permise come immaginerete facilmente di passare molto tranquillamente la notte venuto il giorno i serpenti si ritirarono allora io uscii tremando dalla mia grotta e posso assicurarvi di aver camminato a lungo sui diamanti senza provarne il minimo desiderio infine sedetti e malgrado l'inquietudine siccome non avevo chiuso occhio in tutta la notte mi addormentai dopo aver mangiato qualcosa ero appena assopito quando qualche cosa cadde con grande strepito vicino a me e mi risvegliò era un grosso pezzo di carne fresca e nello stesso tempo ne vidi rotolare molti altri dall'alto delle rupi in luoghi differenti avevo sempre creduto che il racconto che avevo sentito fare più volte da alcuni marinai e da altre persone circa la valle dei diamanti e lo stratagemma usato da alcuni mercanti per cavarne le pietre preziose fosse una favola invece seppi che avevano detto la verità infatti i mercanti si avvicinano a quella valle nel tempo in cui le aquile hanno i figli tagliano la carne e la gettano a grossi pezzi essi cadono sulle punte dei diamanti e vi si attaccano le aquile che in quel paese sono più forti che altrove calano sui pezzi di carne e li portano nel loro nido in cima alle rocce come pasto per gli aquilotti allora i mercanti correndo ai nidi obbligano con le loro grida le aquile ad allontanarsi e prendono i diamanti che trovano attaccati ai pezzi di carne si servono di questo stratagemma non essendovi altro mezzo per portare via i diamanti da quella valle che è in fondo a un precipizio per il quale non si potrebbe scendere io avevo creduto sino allora che mi sarebbe stato impossibile uscire da quell'abisso ma quel che vidi mi offrì un'opportunità di escogitare il mezzo per salvarmi la vita cominciai a raccogliere i diamanti più grossi che si presentarono ai miei occhi e ne riempì la mia borsa di cuoio dove avevo tenuto le provviste poi prese un grosso pezzo di carne e me lo legai ben stretto intorno alla vita con la tela del mio turbante e mi stesi i bocconi con la borsa di cuoio legata alla cintura in modo che non potesse cadere non appena fu in quella situazione vennero le aquile ognuna si prese un pezzo di carne e una delle più forti avendomi sollevato unitamente al pezzo di carne nel quale mi ero avviluppato mi portò in cima alla montagna fin dentro al suo nido i marcanti non mancarono allora di spaventare con le loro grida le aquile e quando le ebbero obbligate a lasciare la preda uno di essi si avvicinò ma appena mi vide ebbe paura poi si rassicurò e invece di informarsi per quale avventura mi trovassi là cominciò a rimproverarmi domandandomi perché gli prendevo ciò che gli apparteneva mi parlerete con più cortesia gli dissi quando mi avrete conosciuto meglio dopo un poco aggiunsi ho diamanti per voi e per me più di quanti potrebbero averne tutti gli altri mercanti insieme se essi ne hanno è un caso ma io ho scelto da me in fondo alla valle quelli che porto in questa borsa così dicendo gliela mostrai e non appena terminai di parlare i mercanti che mi videro si affollarono intorno a me molto meravigliati di vedermi e il racconto della mia storia aumentò la loro meraviglia essi non ammiravano tanto lo stratagemma che avevo escogitato per salvarmi quanto l'ardire di metterlo in atto mi condussero all'alloggio dove abitavano e avendo aperta la mia borsa in loro presenza la grossezza dei miei diamanti li stupì e mi confessarono che in tutte le corti dove erano stati non ne avevano mai visti di così belli io pregai il mercante cui apparteneva il nido dove ero stato trasportato avendo ogni mercante il suo di sceglierne quanti ne volesse lui si accontentò di prenderne uno dei meno grossi e siccome lo pregavo di prenderne altri senza tema di spiacermi no disse mi contento di questo che è prezioso abbastanza per risparmiarmi la pena di fare da oggi altri viaggi per farmi una piccola fortuna passai la notte con quei mercanti e raccontai di nuovo la mia storia per soddisfare la curiosità di quelli che non l'avevano udita ma non potevo moderare la mia gioia quando riflettevo che ero ormai fuori dai pericoli di cui vi ho parlato e mi pareva che lo stato in cui mi trovavo fosse un sogno e non potevo credere di non avere altro da temere erano già molti giorni che i mercanti gettavano pezzi di carne nella valle e siccome ciascuno sembrava contento dei diamanti che gli erano toccati in sorte partimmo insieme l'indomani e camminammo per alte montagne dove vivevano serpenti di una prodigiosa grossezza avendo cura di evitarli arrivati al primo porto passammo nell'isola di Roa dove cresce l'albero dal quale si estrae la canfora che è così grande e folto che cento uomini possono stare comodamente alla sua ombra il succo dal quale si fa la canfora scorre da una fessura praticata nel tronco dell'albero e si raccoglie in un vaso dove prende consistenza estratto così il succo l'albero secca e muore nell'isola stessa vi sono rinoceronti animali più piccini dell'elefante e più grossi del bufalo essi hanno sul naso un corno lungo circa un cubito tagliato in mezzo da un'estremità all'altra il rinoceronte combatte l'elefante lo infilza con il suo corno al di sotto del ventre lo solleva e lo porta sulla testa ma siccome il sangue e il grasso dell'elefante gli colano negli occhi e lo accecano esso cade a terra allora viene il ruc che li afferra entrambi coi suoi artigli e li trasporta via per nutrire i suoi piccini tralascio molte altre particolarità di quell'isola temendo di annoiarvi qui barattai alcuni dei miei diamanti con buona mercanzia e là andammo in altre isole per il nostro commercio e approdammo a Bassora da dove me ne venne a Bagdad appena giunto feci molte lemosina ai poveri e godetti onoratamente del resto delle immense ricchezze che avevo guadagnate con tanta fatica così raccontò Sindibad del suo secondo viaggio fece dare altri cento dinar a Hindbad e lo invitò a venire l'indomani ad ascoltare il racconto del terzo viaggio i convidati andarono nelle loro case e ritornarono il giorno seguente alla stessa ora e così anche il facchino il quale aveva quasi dimenticato la sua trascorsa miseria si misero a tavola e dopo il pasto Sindibad fece la narrazione del suo terzo viaggio terzo viaggio Sindibad subito persi disse nella dolcezza della mia nuova vita la memoria dei pericoli corsi nei miei due viaggi e presto poiché ero nel fiore dell'età mi annoiai di vivere in riposo e scacciando l'idea di nuovi pericoli che avrei dovuto affrontare partii da Baghdad con ricche mercanzie del paese che feci trasportare a Bassora e mi imbarcai di nuovo con altri mercanti facemmo una lunga navigazione approdando in molti porti e realizzando considerevoli guadagni un giorno mentre eravamo in alto mare fummo sorpresi da un'orribile tempesta che ci costrinse a rifugiarci in un porto dove il capitano avrebbe preferito non entrare quando furono ammainate le vele il capitano ci disse quest'isola e alcune altre qui vicine sono abitate da selvaggi che verranno ad assalirci quantunque siano nani la prudenza vuole che non facciamo la minima resistenza perché sono più numerosi delle cavallette e se ci accadesse di ucciderne anche uno solo si getterebbero tutti su di noi e ci ammazzerebbero il discorso del capitano disse Sinibad mise tutto l'equipaggio in uno stato di grande costernazione e dovemmo constatare ben presto che aveva detta la verità vedemmo infatti comparire una moltitudine innumerevoli di selvaggi schifosi col corpo interamente coperto di pelo rosso alti soltanto dei piedi questi si gettarono a nuoto e circondarono in un batter d'occhio la nave e cominciarono a parlarci senza peraltro riuscire a farsi intendere si afferrarono ai fianchi e alle corde del naviglio e si arrampicarono da tutti i lati fino alla tolda con grande agilità e rapidità noi li vedemmo eseguire questa manovra con non poca cura e non osavamo né difenderci né dir loro una sola parola essi spiegarono le vele e tagliarono la gomina dell'ancora senza darsi la pena di salparla poi ci fecero sbarcare tutti portarono poi la nave in un'altra isola da dove eravamo venuti ci allontanammo dalla riva e avanzando nell'isola trovammo un po' di frutta e dell'erba ne mangiammo per prolungare gli ultimi momenti della nostra vita quanto più possibile camminando scoprimmo in lontananza un grande edificio e dirigemmo i nostri passi in quella direzione era un palazzo ben costruito e altissimo con una porta di ebano a due battenti l'aprimmo ed entrammo nel cortile vedemmo di fronte a noi un vasto appartamento con un atrio dove scorgemmo da un lato un mucchio di ossa umane e dall'altro un'infinità di spiedi a questo spettacolo tremammo e poiché eravamo anche molto stanchi ci si piegarono le gambe cademmo a terra presi da uno spavento mortale e restammo a lungo immobili il sole si avviava al tramonto e noi eravamo ancora in quello stato miserando quando la porta dell'appartamento si aprì con molto rumore e vedemmo uscirne un'orribile figura d'uomo nero alto quanto una grossa palma aveva in mezzo alla fronte un unico occhio e ardente come un carbone acceso i denti gli uscivano dalla bocca larga quanto quella di un cavallo e il labbro inferiore gli discendeva sul petto e le sue orecchie erano simili a quelle di un elefante e le unghie erano adunche e lunghe come gli artigli degli uccelli rapaci alla vista di un gigante così spaventevole perdemmo i sensi e restammo come morti finalmente ritornammo in noi e lo vedemmo seduto nell'atrio che ci osservava attentamente quando ci ebbe esaminati ben bene avanzò verso di noi stese la mano su di me mi prese il collo e mi volse da tutti i lati come un beccaio che maneggi la testa ad un montone dopo avermi osservato ben bene vedendo che ero magro e non avevo che la pelle e le ossa mi lasciò presa gli altri successivamente e li esaminò allo stesso modo siccome il capitano era il più grasso dell'equipaggio lo tenne con una mano come si può tenere un passero e gli passò uno spiedo attraverso il corpo avendo acceso quindi un gran fuoco lo fece arrostire e lo mangiò per cena terminato quel pasto tornò nell'atrio dove si coricò e si addormentò russando in modo più fragoroso del tuono e il sonno durò fino al giorno seguente in quanto a noi non ci fu possibile gustare la dolcezza del riposo e passammo la notte nella più crudele inquietudine venuto il giorno il gigante si svegliò si alzò e ci lasciò nel palazzo quando lo credemmo allontanato rompemmo il triste silenzio osservato durante tutta la notte e lamentandoci a gara facemmo rimbombare il palazzo di lamenti e gemiti quantunque fossimo in grandissimo numero ed avessimo un solo nemico non ci venne dapprima il pensiero di liberarci di lui uccidendolo passammo in rassegna le varie soluzioni ma non ci decidemmo per alcuna di esse e sottomettendo la nostra sorte al volere di Dio passammo il giorno percorrendo l'isola e nutrendoci di frutta e di piante come il giorno precedente la sera cercammo qualche altro luogo per metterci al coperto ma non trovandone alcuno fummo obbligati a malincuore a ritornare al palazzo anche questa volta il gigante si sfamò con uno dei nostri compagni dopodiché si addormentò e russò fino al giorno appresso la nostra condizione ci parve talmente orribile che molti dei miei compagni furono sul punto di andarsi a gettare il mare anziché aspettare una morte così crudele allora uno della compagnia prendendo la parola disse ci hai vietato darci da noi stessi la morte e anche se fosse permesso non è forse più ragionevole tentare di disfarci del nostro nemico siccome a me era venuta un'idea in proposito la comunicaia ai miei compagni i quali la provarono miei cari fratelli dissi loro voi sapete che c'è molto legname lungo la riva del mare costruiamoci delle zattere e quando saranno terminate le lasceremo sulla riva finché ci parrà opportuno servirsene intanto metteremo in esecuzione il piano per liberarsi dal gigante se riesce potremmo aspettare qui qualche nave che ci salvi da quest'isola fatale se al contrario fallisse raggiungeremo subito le nostre zattere e ci metteremo in salvo confesso che esponendoci al furore del mare su barche così fragili corriamo pericolo di perdere la vita ma quando pure dovessimo perire sarà dolce lasciarsi seppellire dal mare anziché essere divorati da questo mostro il mio discorso piacque e costruimmo diverse barche adatte a portare tre persone tornammo al palazzo verso il finire del giorno il gigante giunse poco dopo di noi fummo costretti a vedere arrostito ancora una volta un nostro compagno ma ecco in quel modo ci vendicammo della crudeltà del gigante dopo che egli ebbe terminata la sua detestabile cena si coricò su pino e si addormentò appena lo dimorussare come era sua usanza nove dei più arditi fra noi presero ognuno uno spiedo ne mettemmo la punta sul fuoco per farlo arroventare e gliela conficcammo nell'occhio tutti insieme e lo accecammo il dolore gli fece mettere uno spaventevole grido si alzò fieramente e tese le mani da tutti i lati per rafferrare qualcuno di noi e sacrificarlo alla sua rabbia dopo averci cercato in vano trovò a tentoni la porta e uscì mandando urla spaventevoli uscimmo dal palazzo dopo il gigante e andammo sulla sponda del mare nel luogo dove erano le nostre zattere subito le spingemmo in acqua e aspettammo il giorno per metterci in viaggio supposto che vedessimo il gigante venire a noi con qualche guida della sua specie qualora poi egli avesse perso la vita si proponevamo di restare nell'isola e di non arrischiarci sulle zattere ma appena fu giorno scorgemmo il mostro crudele accompagnato da due giganti pressa poco della sua altezza che lo conducevano e da un gran numero di altri che lo precedevano a passi precipitosi a quella vista non esitammo a gettarci sulle zattere e cominciammo ad allontanarci dalla riva a forza di remi i giganti se ne accorsero si munirono di grosse pietre accorsero alla spiaggia entrarono nell'acqua fino a metà corpo e cominciarono a gettarle così destramente che ad eccezione della zattera su cui ero io tutte le altre furono fracassate e gli uomini che vi erano sopra annegarono io e i miei compagni siccome evocavamo a tutta forza ci trovavamo già più a largo e fuori tiro delle loro pietre quando fummo in alto mare restammo in balia del vento e delle onde e passammo tutto quel giorno e la notte successiva in una crudele incertezza sul nostro destino ma giunto l'indomani fummo spinti verso un'isola dove ci fermammo pieni di gioia vi trovammo un'eccellente frutta con la quale potemmo riacquistare le forze perdute poi ci addormentammo sulla sponda del mare ma fummo svegliati dal rumore d'un serpente lungo quanto una palma ci venne vicino e inghiotti uno dei nostri la donta delle grida e degli sforzi che faceva per liberarsi dal rettile io e l'altro mio compagno prendemmo subito la fuga esclamando a che ci siamo esposti ci rallegravamo di essere scampati dalle acque ed eccoci caduti in un pericolo non meno terribile camminando osservammo un albero altissimo sul quale ci proponemmo di passare le notti seguenti per mettersi al sicuro mangiammo della frutta e sul finire del giorno salimmo sull'albero udimo allora un serpente il quale venne sibilando sino ai piedi dell'albero si drizzò lungo il tronco e raggiungendo il mio camerata l'inghiottì in un momento e si ritirò restai fino a giorno fatto sull'albero discendendone più morto che vivo infatti non poteva aspettarmi sorte diversa da quella dei miei compagni questo pensiero mi fece fremere d'orrore e fece alcuni passi per andarmi a gettare in mare ma siccome è dolce vivere più che si può resistetti a quel moto di disperazione e mi sottoposi al volere di Dio il quale dispone a suo grado delle nostre esistenze ciò nonostante non tralasciai di raccogliere una gran quantità di legna minuta ne feci molti fasci li legai insieme disponendoli in cerchio intorno all'albero legandone alcuni di tre verso e allo scopo di coprirmi la testa ciò fatto al cadere della notte mi chiusi in quel cerchio con la triste consolazione di non aver nulla trascurato per garantirmi dalla morte crudele da cui ero minacciato il serpente non mancò di tornare e di aggirarsi intorno all'albero cercando di divorarmi ma non riuscendovi a causa del riparo che mi ero costruito si ritirò io non osai uscire dalla mia fortezza prima del giorno stanco e scoraggiato mi allontanai dall'albero e senza ricordarmi della rassegnazione del giorno precedente corsi verso il mare col proposito di precipitarmi in esso a capofitto Sinibat sempre proseguendo disse Dio fu commosso dalla mia disperazione mentre stavo per gettarmi in mare vidi un naviglio assai lontano dalla riva gridai con tutte le mie forze per farmi sentire e agitai la tela del mio turbante per farmi vedere ciò non fu inutile l'equipaggio mi scorse e il capitano mi inviò una scialuppa quando fui a bordo i mercanti e i marinai mi domandarono con molta premura come mai mi fossi trovato in quell'isola deserta e dopo che ebbi loro raccontato tutto quanto m'era capitato i più vecchi mi dissero che avevano molte volte udito parlare dei giganti di quell'isola che erano antropofasi quanto ai serpenti aggiunsero che ve ne sono in quelle isole in grande abbondanza dopo avermi attestato la gioia che provavano nel vedermi libero da tanti pericoli si affrettarono ad offrirmi quanto avevano di meglio e il capitano osservando il mio abito tutto lazero ebbe la generosità di farmene dare uno dei suoi percorremmo qualche tempo il mare toccammo molte isole e infine approdammo a quella di Salaita da cui si esporta il sandalo che è un legno molto usato in medicina entrammo nel porto e gettammo l'ancora i mercanti cominciarono a sbarcare le loro mercanzie per venderle o barattarle nel frattempo il capitano mi chiamò e mi disse fratello ho in deposito alcune mercanzie che appartenevano ad un mercante che ha navigato qualche tempo sul mio naviglio siccome questo mercante è morto io le metto in vendita per renderne conto ai suoi eredi quando ne incontrerò qualcuno le balle di cui egli intendeva parlare erano sul ponte e me le mostrò dicendomi ecco le merci spero vorrete incaricarvi di farne commercio e vi darò il compenso dovuto per le vostre fatiche la consentì ringraziandolo perché mi forniva l'occasione di non restare ozioso lo scrivano del bastimento registrava tutte le balle con i nomi dei mercanti a cui appartenevano domandò quindi al capitano sotto quale nome dovesse registrare quelle delle quali mi incaricava scrivetele rispose il capitano sotto il nome di sindibad il marinaio io non potei sentirmi nominare senza emozione e guardando fissamente il capitano lo riconobbi per quello che nel mio secondo viaggio mi aveva abbandonato nell'isola quando mi ero addormentato sulla riva di un ruscello e lui era partito senza attendermi farmi cercare io non l'avevo riconosciuto a causa del cambiamento avvenuto nella sua persona e non è strano che lui che mi credeva morto non mi avesse riconosciuto allora gli dissi capitano è vero che il mercante a cui appartenevano queste balle si chiamava sindibad sì mi rispose si chiama così era di bagdad e si era imbarcato sulla mia nave a bassora un giorno che noi scendemmo in un'isola per fare acqua e rinfrescarsi non so per quale sbaglio io sciolsi la vela senza badare che non si era imbarcato con gli altri i mercanti ed io ce ne accorgemmo solo quattro ore dopo avevamo il vento in poppa e così cagliardo da non poter virare di bordo per andarlo a riprendere voi dunque lo credete morto ripresi io certamente rispose ebbene capitano ripigliai aprite gli occhi e riconoscete in me quel sindibad da voi lasciato nell'isola deserta io mi ero addormentato in riva a un ruscello e quando mi svegliai non vidi più alcuno dell'equipaggio a queste parole il capitano si mise a guardarmi fissamente dopo avermi considerato molto attentamente mi riconobbe ed esclamò abbracciandomi si hanno dato il dio sono lieto che la fortuna abbia riparato al mio errore ecco le vostre mercanzie che ho sempre avuto cura di conservare e mettere a profitto in tutti i porti dove ho approdato ve le restituisco col profitto ricavatone io le presi manifestando al capitano la mia riconoscenza dall'isola di Salaita andammo in un'altra dove feci provvista di canofano di cannella e di altre droghe quando ne fummo lontani vedemmo una testugine di venti cubiti di lunghezza scorgemmo anche un pesce che assomigliava a una vacca perché aveva del latte la sua pelle era tanto dura che serve a fare degli scudi ne vedi un altro con la figura e il colore di un cammello infine dopo una lunga navigazione giunsi a Bassora e di là tornai a Bagdad con tante ricchezze che non sapevo neppure io a quanto ammontassero ne diedi ai poveri una parte considerevole e aggiunsi altre grandi terre a quelle che già possedevo Sindibat terminò così la storia del suo terzo viaggio fece dare altri cento dinar a Sindibat invitandolo a pranzo per il giorno seguente per sentire il racconto del quarto viaggio Sindibat e la compagnia si ritirarono ed essendo ritornati il giorno seguente Sindibat prese la parola verso la fine del pranzo continuando a narrare le sue avventure nel modo seguente quarto viaggio i piaceri disse e i divertimenti che gustavi dopo il terzo viaggio non ebbero però sufficienti attrattive per determinarmi a non viaggiare mi lasciai ancora trascinare dalla passione di commerciare e di vedere cose nuove misi dunque in ordine ai miei affari ed essendomi procurato un fondo di mercanzie facili da smerciare nei luoghi dove intendevo andare partii attraversando molte province della Persia e giungendo a un porto dove mi imbarcai sciogliemmo le vele ed avevamo già toccato molti porti del continente ed alcune isole orientali quando un giorno durante un lungo tragitto fummo sorpresi da un colpo di vento che obbligò il capitano a far ammainare le vele e a dar tutti gli ordini necessari per prevenire il pericolo da cui eravamo minacciati ma tutte le nostre precauzioni furono inutili la manovra non riuscì bene le vele furono lacerate in mille pezzi e la nave non potendo essere governata si incagliò in una secca e affondò molti mercanti e marinai annegarono e il carico andò perduto io ebbi la fortuna di afferrarmi con altri a una tavola e fummo trasportati dalla corrente verso un'isola ritrovammo frutta e acqua sorgente con cui potemmo rimetterci in forze ci riposammo per quella notte nel luogo dove ci aveva gettato ci riposammo per quella notte nel luogo dove ci aveva gettati il mare senza aver preso alcuna decisione sul da farsi poiché l'abbattimento in cui eravamo per la nostra disgrazia ce l'aveva impedito il giorno seguente appena sorto il sole ci allontanammo dalla riva e inoltrandoci nell'isola vi scorgemmo delle abitazioni verso cui ci dirigemmo al nostro arrivo ci vennero incontro moltissimi negri che ci attorniarono si impadronirono delle nostre persone si divisero tra loro e ci condussero nelle loro case cinque dei miei compagni ed io fummo condotti in uno stesso luogo da prima ci fecero sedere e ci presentarono una certa erba invitandoci a segni a mangiare i miei compagni senza riflettere che quelli che la porgevano non la mangiavano dando ascolto soltanto alla fame si gettarono con avidità su quella vivanda in quanto a me non vogli nemmeno assaggiarne e mi trovai bene perché poco dopo mi avvidi che ai miei compagni aveva dato di volta il cervello e che parlandomi non sapevano quello che si dicevano quindi ci prestarono del riso preparato con l'olio di cocco i miei compagni ne mangiarono una quantità incredibile anch'io ne mangiai ma pochissimo i negri ci avevano presentato da prima quell'erba per sconvolgerci la mente e toglierci così il dolore che doveva arrecarci la triste conoscenza della nostra sorte infatti erano antropofasi e la loro intenzione era di mangiarci quando saremmo stati grassi e questo appunto avvenne ai miei compagni in quanto a me invece di ingrassare come gli altri divenne anche più magro di prima il timore della morte da cui ero incessantemente assalito cambiava infatti in veleno tutti gli alimenti che prendevo cadde in un languore che mi fu molto salutare perché i negri dopo aver ucciso e mangiato i miei compagni vedendomi magro e ammalato rimandarono ad altro tempo la mia morte io intanto godevo di molta libertà e quasi non si badava alle mie azioni questo mi diede la possibilità di allontanarmi dalle abitazioni dei neri e di fuggire un vecchio che mi vide e dubitò delle mie intenzioni mi gridò con tutta la sua forza di ritornare ma invece dove dirlo accelerai il passo e ben presto mi sottrassi alla sua vista in quel momento c'era solo quel vecchio nelle abitazioni tutti gli altri si erano assentati e non dovevano ritornare che sul finire del giorno come sollevano fare molto spesso essendo quindi sicuro che sarebbe stato troppo tardi per corrermi dietro quando avessero saputo della mia fuga camminai fino alla notte poi mi fermai per prendere un po' di riposo e mangiare una parte dei viveri di cui mi ero provveduto ma subito dopo ripresi la via e continuai a camminare per sette giorni evitando i luoghi abitati vivevo di cocco che mi forniva al tempo stesso da bere e da mangiare ottavo giorno giunsi vicino al mare e scorse all'improvviso alcuni uomini bianchi come me occupati a cogliere il pepe di cui c'era grande abbondanza la loro occupazione mi parve di buono auspicio e non ebbi alcuna esitazione ad avvicinarmi a loro gli uomini che coglievano il pepe continuò sindibad mi vennero incontro appena mebbero veduto mi domandarono in arabo chi fossi e da dove venissi lieto di sentirti parlare come me soddisfeci volentieri la loro curiosità raccontando loro in qual modo avessi fatto naufragio e fossi venuto in quell'isola dove ero caduto in mano ai negri ma questi negri mi dissero mangiano gli uomini per quale miracolo siete fuggito alla loro crudeltà feci loro lo stesso racconto che ho fatto ora a voi e ne furono straordinariamente stupiti restai con loro sino che ebbero raccolto la quantità di pepe necessaria poi mi imbarcai sul loro bastimento e ci recammo in un'altra isola da dove erano venuti mi presentarono al loro re che era un buon principe e gli ebbe la pazienza di ascoltare il racconto della mia avventura facendomi poi dare degli abiti e comandando che si avesse cura di me l'isola in cui mi trovavo era molto popolata e ricca di ogni sorta di cose poiché vi si faceva gran commercio quel piacevole asilo cominciò a consolarmi della mia sventura e la bontà del principe a mio riguardo finì per rendermi contento infatti egli era molto caro e per conseguenza non vi era alcuno nella sua corte o nella città che non cercasse l'occasione di farmi piacere quindi io fui subito considerato come un nativo dell'isola anziché come uno straniero notai una cosa che mi parve straordinaria tutti indistintamente montavano a cavallo senza staffe un giorno mi feci coraggio e domandai al re perché non si servisse di tali comodità mi rispose che parlavo di cose di cui signor avvaluso nei suoi stati andai subito da un operaio e gli feci costruire una sella di legno secondo un modello che gli diedi finito il lavoro lo guarnì io stesso di borra e di cuoio e la adornai con un ricamo d'oro mi rivolsi quindi ad un fabbro ferraio il quale seguendo le mie istruzioni mi fece un morso e delle staffe quando queste cose furono in perfetto stato andai a presentarle al re e le provai sopra uno dei suoi cavalli il principe vi montò sopra e fu tanto soddisfatto di quella invenzione da testarmi la sua gioia con grande generosità non potei esentarmi dal fare parecchie sell per i ministri e per i principali ufficiali della sua casa i quali tutti mi fecero dei regali così che mi arricchii in poco tempo e fabbricai pure per le persone più altolocate della città il che accrebbe la mia reputazione e mi fece degno di considerazione presso tutti siccome io frequentavo il re con molta costanza lui mi disse un giorno Cindy Budd io ti voglio bene e so che tutti i miei sudditi che ti conoscono ti hanno caro al pari di me debbo pregarti di una cosa e bisogna che tu mi accordi quello che ti domanderò sì re gli risposi nulla vecchio non sia pronto a fare per mostrare la mia obbedienza alla maestra vostra ella ha su di me un assoluto potere voglio darti moglie soggiunse il re perché col matrimonio tu ti stabilisca nei miei stati e non pensi più alla tua patria siccome non osai resistere alla volontà del principe egli mi diede una dama della sua corte nobile bella sanza e ricca dopo le cerimonie nuziali andai a stare in casa della sposa con la quale vissi qualche tempo in una unione perfetta però io non ero troppo contento del mio stato e il mio proposito era di fuggirmene alla prima occasione e di ritornare a Baghdad ero in queste condizioni di spirito quando la moglie di uno dei miei vicini con il quale io avevo stretto grande amicizia cadde ammalata e morì andai da lui per consolarlo e trovandolo immerso nella più viva afflizione dio vi conservi gli disse avvicinandomi e vi dia lunga vita oimè mi rispose come volete che io ottenga la grazia che mi augurate se ho solamente un'ora da vivere soggiunsi non vi mettete in mente una simile idea io spero che ciò non succeda per avere il piacere di avervi tra noi ancora per lungo tempo io vi auguro replicò una lunga vita in quanto a me non ho più nulla da sperare poiché oggi stesso mi seppelliscono con mia moglie tale è l'usanza che i nostri antenati hanno inviolabilmente osservata il marito vivo è seppellito con la moglie morta e la moglie viva col marito morto nulla può salvarmi tutti sono soggetti a questa legge mentre mi intratteneva intorno a questa strana e barbara usanza la cui notizia mi spaventò crudelmente i parenti gli amici e i vicini arrivarono in folla per assistere ai funerali si rivestì il cadavere della moglie e dei suoi abiti più ricchi come al di delle sue nozze adornandola di tutti i suoi gioielli la misero poi in una barra scoperta e il convoglio si mise in cammino il marito era alla testa delle persone vestite a lutto e seguiva il corpo di sua moglie fu presa la via ad un'alta montagna e quando vi si giunse fu tolta una grossa pietra che copriva l'apertura di un pozzo profondo e vi si calò il cadavere senza nulla togliergli dei suoi ornamenti e dei suoi gioielli dopo ciò il marito abbracciò i suoi parenti e amici e si lasciò mettere in una barra senza fare resistenza con un vaso d'acqua e sette piccoli panni accanto a sé poi lo calarono così come avevano fatto col cadavere di sua moglie la montagna si estendeva per un buon tratto e serviva di limite al mare e il pozzo era profondissimo finita la cerimonia fu rimessa la pietra sull'apertura e ognuno se ne tornò alla propria abitazione non c'è bisogno di dirvi signori miei che io fui il testimonio più sconvolto di quei funerali tutte le altre persone che vi assistettero non ne parvero punto commosse per l'abitudine che avevano di vedere spesso la stessa cosa non potei trattenermi dal dire al re quello che ne pensavo sire gli dissi sono fortemente meravigliato della strana usanza che si ha nei vostri stati di seppellire i vivi coi morti ho molto viaggiato ho frequentato persone di molte nazioni e non ho mai sentito parlare di una legge così crudele che vuoi sindibad mi rispose il re è una legge antica a cui sono io stesso soggetto io sarò seppellito vivo con la regina mia sposa se lei morirà prima di me ma sire gli dissi vorrei domandare a vostra maestà se gli stranieri sono obbligati ad osservare questa usanza senza dubbio rispose il re sorridendo essi non ne sono esentati quando si sono ammogliati in quest'isola me ne tornai a casa trista per tale risposta il timore che mia moglie morisse prima di me e che io fossi seppellito con lei da vivo mi faceva fare molte riflessioni che rimedi avrei potuto trovare a quel male bisogno aver pazienza e rassegnarsi alla volontà di Dio pure tremavo alla minima indisposizione di mia moglie e ahimè ebbi ben presto una grande paura perché lei cadde veramente ammalata e morì in pochi giorni giudicate quali fu il mio dolore essere seppellito vivo non mi sembrava una fine meno orribile di quella di essere divorato dagli antropofagi eppure bisognava sottomettervisi il re accompagnato da tutta la sua corte volle onorare della sua presenza il corteo e le persone più notevoli della città mi fecero anche l'onore di assistere alla sepoltura quando tutto fu pronto per la cerimonia il corpo di mia moglie fu messo in una bara con tutti i suoi gioielli e i suoi abiti più splendidi si cominciò a camminare come secondo attore di questa miseranda tragedia io seguivo immediatamente la bara di mia moglie con gli occhi bagnati di lacrime deplorando il mio sfortunato destino prima di giungere alla montagna voglio fare un tentativo per piegare l'animo degli spettatori mi rivolsi prima al re e poi a tutti quelli che si trovavano intorno a me e abbassandomi fino a terra per baciare il lembo del loro abito le supplicai di avere compassione di me considerate dicevo loro che sono straniero che non debbo essere sottoposto ad una legge tanto rigorosa che ha un'altra moglie e dei figli nel mio paese ebbe un bel dire un bel fare nessuno fu commosso al contrario si affrettarono a calare il corpo di mia moglie nel pozzo e mi calarono un momento dopo in un'altra barra coperta con il viso piano d'acqua e sette pani finalmente essendo finita la cerimonia funesta si rimise la pietra sull'apertura del pozzo nonostante il mio insopportabile dolore e le mie grida lamentevoli a misura che mi accostavano al fondo scoprivo con l'aiuto della poca luce proveniente dall'alto la disposizione di quel lungo sotterraneo era una grotta vastissima che poteva avere cinquanta cubiti di profondità senti ben presto un fetore insopportabile proveniente dai cadaveri distesi a destra e a sinistra uscii prontamente dalla barra e mi allontanai dai cadaveri turandomi il naso mi cettai per terra dove rimasi lungo tempo immerso nel pianto allora riflettendo sulla mia sorte dissi è vero che Dio dispone di noi secondo i decreti della sua provvidenza ma povero Cindy Budd non è per tua colpa che tu ti vedi ridotto a morire di una morte così strana piacesse a Dio che tu fossi perito in uno dei naufragi da cui sei scampato tu non dovresti ora morire di una morte lenta e terribile ma te la sei voluta tu con la tua maledetta avarizia disgraziato non potevi restare a casa tua a godere tranquillamente il frutto delle tue fatiche tali erano gli inutili lamenti di cui facevo risuonare la grotta battendomi la testa ed il petto di rabbia e di disperazione e abbandonandomi ai più desolanti pensieri pure vi confesso che invece di chiamare la morte in mio soccorso per quanto fossi miserabile l'amore della vita si faceva sentire in me più forte che mai e feci di tutto per prolungare i miei giorni andai a tentoni e turandomi il naso a prendere il pane e l'acqua che erano nella mia bara e ne mangiai men che l'oscurità della grotta fosse così fitta da non lasciar distinguere il giorno dalla notte riuscii a trovare la mia bara visi alcuni giorni col mio pane e con l'acqua ma infine non avendone più mi preparai a morire altro non aspettavo all'infuori della morte quando udì levare la pietra fu calato un cadavere e una persona viva il morto era un uomo a situazioni estreme estremi rimedi prezzi una decisione mi avvicinai al luogo dove la bara della donna doveva essere posata e quando mi accorsi che ricoprivano l'apertura del pozzo diedi sulla testa quell'infelice due o tre colpi fortissimi con un osso di cui m'ero armato la stordì o piuttosto la uccisi e siccome io non facevo quest'atto inumano che per profittare del pane e dell'acqua che erano nella vara ebbi delle provviste per alcuni giorni poi fu calata ancora una donna morta e un uomo vivo ammazzai l'uomo allo stesso modo e siccome per mia fortuna ci fu una specie di mortalità nella città io non mancai di vivere mettendo sempre in opera lo stesso metodo un giorno che avevo finito di uccidere un'altra donna udì soffiare e camminare avanzai dal lato dal quale il rumore proveniva udì soffiare più forte e mi parvi di intravedere qualche cosa che prendeva la fuga seguì quella specie d'ombra che di tanto in tanto si fermava e soffiava fuggendo quando mi accostavo la inseguì tanto che scorsi infine una luce simile a una stella continuai a camminare verso quella luce e finalmente scoprì che veniva da un'apertura della rupe abbastanza larga per passarvi a quella scoperta mi fermai un poco per rimettermi dall'emozione provata poi essendo avanzato fino all'apertura vi passai e mi trovai in riva al mare immaginatevi la mia gioia quando i miei sensi furono ristabiliti compresi che la cosa che avevo dito soffiare e che avevo seguita era un animale uscito dal mare che entrava nella grotta per mangiare i cadaveri esaminai la montagna e osservai che era situata tra la città ed il mare e non aveva strade perché era talmente scoscesa che non era praticabile mi prostrai sub la riva per ringraziare Dio della grazia fattami rientrai quindi nella grotta a prendere del pane che mi mise a mangiare alla luce del giorno come non avevo fatto da che mi avevano seppellito in quel luogo tenebroso mi ritornai di nuovo e andai a raccogliere a tentoni nelle bare tutti i diamanti i rubini le perle i braccialetti d'oro tutte le ricche stoffe che mi capitarono sotto le mani portai tutto ciò sulla riva del mare e ne feci parecchie balle che legai solidamente con le corde che erano servite per calare le bare e di cui vi era grande quantità in capo a due o tre giorni scorsi un naviglio che usciva dal porto rasentando il posto dove ero feci segno con la tela del mio turbante e gridai a tutta forza per farmi sentire fui udito e fu spedita una scialuppa per venirmi a prendere alla domanda che i marinai mi fecero per quale sventura io mi trovasse in quel luogo risposi che erano due giorni che mi ero salvato da un naufragio con le mie mercanzie fortunatamente per me quella gente senza esaminare il luogo dove ero senza chiedersi se ciò che avevo raccontato fosse verosimile si contentò della mia risposta e mi condusse via con le mie balle quando fummo giunti a bordo il capitano soddisfatto di avermi aiutato e occupato dal comando del naviglio ebbe la bontà di accontentarsi del racconto del preteso naufragio io gli offersi alcune delle mie gioie ma non volle accettarle passammo davanti a parecchie isole fra le altre all'isola delle campane lontana dieci giornate da quella di Serendib con vento ordinario e regolare e sei dall'isola di Chela dove approdammo vi sono qui miniere di piombo canne d'india e canfora eccellente il re dell'isola di Chela è ricchissimo potentissimo e la sua autorità si estende su tutta l'isola delle campane che è vastissima e i cui abitanti sono ancora così barbari da mangiare la carne umana dopo aver fatto un gran commercio in quell'isola ci rimettemmo in viaggio e aprodammo a parecchi altri porti finalmente giunsi felicemente a Bagdad con ricchezze infinite di cui è inutile farvi la minuta descrizione per rendere grazie a Dio dei favori che mi aveva concessi feci grandi elemosine tanto per il mantenimento di parecchie moschee come per la sussistenza dei poveri e mi dedicai interamente ai miei parenti ed amici divertendomi e me ne ando vita allegra con loro Sindibad finì a questo punto il racconto del suo viaggio e stupì i suoi ascoltatori ancor più dei tre precedenti fece un nuovo dono a Hindbad e lo pregò di ritornare il di seguente alla stessa ora per pranzare con lui e sentire i particolari del suo quinto viaggio Hindbad e gli altri convitati presero commiato da lui e si ritirarono quindi domani quando furono tutti radunati si misero a tavola e alla fine del pasto Sindibad cominciò in questo modo il racconto del suo quinto viaggio quinto viaggio i piaceri che godetti a Bagdad disse furono tali da cancellare dalla mia memoria tutte le pene e i mani che avevo sofferti senza però togliermi il desiderio di fare nuovi viaggi comprai perciò delle mercanzie le fece imballare e caricare sopra dei carri e partì per recarmi al primo porto di mare là per non dipendere da un capitano e per avere un naviglio al mio comando mi divertì a farne costruire uno ed equipaggiarlo a mie spese appena terminato lo feci caricare e l'imbarcai ma siccome non avevo merci sufficienti per caricarlo interamente accolsi con me parecchi mercanti di diverse nazioni con le loro mercanzie facemmo vela col primo vento favorevole e prendemmo il largo dopo una lunga navigazione approdammo su un'isola deserta in cui trovammo l'uovo di ruc di una grandezza pari a quello che vi ho già descritto l'uovo era vicino a schiudersi e racchiudeva un piccolo ruc il cui becco cominciava già a comparire i mercanti che saranno imbarcati sulla mia nave e che erano scesi a terra con me ruppero l'uovo a gran colpi di scure e fecero un'apertura dalla quale strassero il piccolo ruc e lo fecero arrostire io li avevo seriamente avvertiti di non toccare quell'uovo ma loro non mi vollero obbedire avevano appena finito il loro pasto gustoso quando apparvero in aria due grosse nuvole il capitano che avevo ingaggiato per condurre la nave sapendo per esperienza ciò che quello significasse esclamò che erano il padre e la madre del piccolo ruc e ci fece premura perché ci imbarcassimo al più presto per evitare il malanno che prevedeva seguimmo il suo consiglio in gran fretta e ci rimettemmo in mare intanto i due ruc si avvicinavano mandando grida spaventevoli che raddoppiavano quando ebbero visto lo stato in cui era ridotto l'uovo con il proposito di vendicarsi ripresero il loro volo dalla parte da cui erano venuti e scomparvero per qualche tempo mentre noi aprivamo al vento tutte le vele per allontanarci al più presto ed evitare ciò che non mancò di accadere e si tornarono e vedemmo che ciascuno teneva fra gli artigli un macigno di grandezza enorme quando furono proprio sopra la nave si arrestarono e librandosi in aria uno di essi lasciò cadere il macigno che teneva ma per l'abilità del timoniere che fece spostare il naviglio con un colpo di timone esso non ci colpì l'altro uccello per nostra sventura lasciò cadere il suo macigno proprio in mezzo alla nave così da romperla e fracassarla in mille pezzi i marinai e i passeggeri furono tutti schiacciati e sommersi io pure fui sommerso ma ritornando a galla ebbi la fortuna di afferrarmi a una tavola così aiutandomi ora con una mano ora con l'altra senza staccarmi da quell'appiglio che tenevo con il vento e con la corrente che erano favorevoli giunsi infine a un'isola la cui sponda era molto scoscesa ciò nonostante sormontai quell'ostacolo e mi salvai mi sedetti sull'erba per rimettermi un poco della mia stanchezza poi mi alzai inoltrandomi nell'isola per un giro di ricognizione mi sembrò di essere in un giardino delizioso vedevo dappertutto alberi quali carichi di frutta quali di fiori e ruscelli di un'acqua dolce e chiara che formava bellissime anse mangiai quella frutta eccellente e bevi di quell'acqua squisita venuta la notte mi coricae sull'erba in un posto molto comodo dove però non potei dormire un'ora intera di seguito perché il mio sonno era spesso interrotto dalla paura di vedermi solo in un luogo deserto passai le lunghe ore di veglia a dolermi e a rimproverarmi di non essermene restato a casa tali riflessioni mi desolarono tanto che arrivai a formulare disegni contro la mia propria vita ma la luce del giorno dissipò la mia disperazione mi alzai e camminai fra gli alberi con qualche apprensione quando mi fui un poco inoltrato nell'isola scorsi un vecchio che mi parve molto malato era seduto sulla riba di un ruscello e immaginai a prima vista che fosse qualcuno che avesse fatto un naufragio come me mi accostai lo salutai ed egli mi fece solo un lieve inchino con la testa gli domandai che cosa facesse là ma invece di rispondermi mi chiese a segni di prenderlo sulle spalle e di portarlo al di là del ruscello facendomi capire che voleva accogliere della frutta credetti che avesse bisogno di qualche favore e quindi assendomelo caricato sulle spalle passai il ruscello scendete gli disse allora abbassandomi per facilitargli la discesa ma invece di lasciarsi andare a terra io ridò ancora ogni volta che ci penso quel vecchio che mi era sembrato decrepito mi passò leggermente attorno al collo le sue gambe e vidi che aveva una pelle simile a quella delle vacche e si pose a cavalcioni sulle mie spalle stringendomi così forte che pensai volesse strozzarmi lo spavento si impossessò di me da quell'istante e caddi svenuto magrado il mio svenimento quell'ingombrante vecchietto rimase sempre attaccato al mio collo e scostò soltanto un poco le gambe per darmi agio di ritornare in me quando mi fui ripreso mi puntò sul petto uno dei piedi e con l'altro mi percosse il fianco con tanta energia che mi obbligò a rialzarmi il mio magrado quando fu in piedi mi fece camminare sotto alcuni alberi obbligandomi a fermarmi per cogliere e mangiare la frutta che incontravamo e non lasciandomi più per tutto il giorno quando venne la notte voglio riposarmi ma egli si stese per terra con me sempre attaccato al mio collo così ogni mattina non mancava di scuotermi per svegliarmi mi faceva alzare e camminare spronandomi coi suoi piedi immaginatevi signori la mia pena vedendomi caricato di quel fardello senza potermene disfare un giorno trovai sulla via parecchie zucche secche ne presi una assai grossa e dopo averla ben pulita mi spremetti dentro il succo di parecchi grappoli d'uva frutto abbondantissimo nell'isola quando ne ebbe riempita la zucca la posai in un luogo dove ebbi l'abilità di farmi condurre dal vecchio parecchi giorni dopo presi la zucca e portandolo alla bocca bevi un eccellente vino che mi fece dimenticare per qualche tempo il dolore da cui ero oppresso ciò mi diede vigore anzi ne fui così rallegrato che mi mise a cantare e a saltare mentre camminavo il vecchio essendosi accorto dell'effetto prodotto da quella bevanda mi fece segno di dargliene da bere io gli presentai la zucca la prese e poiché la bevanda gli parve gradevole la vuotò fino all'ultima goccia venera quanto bastava per ubriacarlo presto andatigli alla testa i fumi del vino così rallegrato si mise a cantare a modo suo e ad eccitarsi sulle mie spalle le scosse che lui stesso provocava gli fecero rigettare quello che aveva nello stomaco e le sue gambe si rilassarono a poco a poco vedendo che non stringeva più lo gettai a terra dove rimase immobile allora presi una grossissima pietra e con quella gli schiacciai la testa provai una grande gioia per essermi liberato per sempre da quel maledetto vecchio e camminai verso la riva del mare dove trovai alcuni uomini di una nave che erano approdati per fare scorta d'acqua e prendere un po' di riposo furono estremamente meravigliati di vedermi e di sentire i particolari della mia avventura voi mi dissero eravate caduto nelle mani del vecchio del mare e siete il primo che non lo ha strangolato infatti non ha mai abbandonato coloro che aveva potuto sottomettere se non dopo averli soffocati e ha reso questa isola famosa per il gran numero di persone che ha ucciso i marinai e i mercanti che vi scendono non osano inoltrarvisi se non in buona compagnia dopo avermi informato di queste cose mi condussero sul loro lamiglio e il capitano mostrò sommo piacere di ricevermi quando seppe tutto ciò che mi era accaduto fece vela di nuovo e dopo alcuni giorni di navigazione approdammo al porto di una grande città le cui case erano fabbricate in buona pietra uno dei mercanti della nave che mi era amico mi obbligò ad accompagnarlo mi condusse in un alloggio destinato a servire da ricovero ai mercanti stranieri mi diede un gran sacco poi avendomi raccomandato a certe persone della città che avevano un sacco come me e avendole pregata di condurmi con loro a raccogliere i frutti di cocco mi disse andate seguiteli fate come loro e non vi allontanate perché mettereste in pericolo la vostra vita mi diede dei viveri per la giornata e partii con quella gente lungemmo in una grande foresta di alberi altissimi in cui tronco era tanto liscio che non era possibile trovarvi un appiglio per salire fino ai rami dove era il frutto erano alberi di cocco da cui volevamo far cadere i frutti per riempirne i nostri sacchi entrando nella foresta vedemmo un gran numero di grosse e piccole scimmie che fuggirono davanti a noi appena ci scorsero salendo fin sulla cima degli alberi con una meravigliosa agilità i mercanti raccolsero delle pietre e le gettarono con tutte le loro forze contro le scimmie imitai il loro esempio e vedi che le scimmie vedendo ciò che facevamo coglievano con ardore i frutti e se li gettavano con gesti che indicavano il loro svegno e la loro animosità noi raccoglievamo i frutti e gettavamo di tanto in tanto delle pietre per irritare le scimmie con questo stratagemma riempimmo i nostri sacchi di frutti che sarebbe stato impossibile procurarsi in altro modo quando i nostri sacchi furono pieni se ne tornammo in città dove il mercante mi pagò il valore dei sacchi di cocco che avevo portato continuate mi disse andate ogni giorno a fare la stessa cosa fin tanto che non abbiate guadagnato abbastanza per poter tornare a casa vostra lo ringraziai del buon consiglio e a poco a poco a forza di raccogliere cocco mi si dà parte una somma considerevole la nave sulla quale ero venuto aveva fatto vela con alcuni mercanti che l'avevano caricata di cocco attesi l'arrivo di un'altra che approdò ben presto al porto della città per fare un carico simile mi feci imbarcare sopra tutti i frutti da me raccolti e quando fu pronta a partire andai a prendere commiato dal mercante a cui dovevo tanta riconoscenza egli non potè imbarcarsi con me perché non aveva ancora terminato i suoi affari ci mettemmo in viaggio e prendemmo la via dell'isola dove cresceva il pepe in abbondanza di là raggiungemmo l'isola di Comari dove si trova la miglior specie di legno d'aloe e quegli abitanti si sono fatti una legge inviolabile di non bere vino e di non tollerare alcun luogo di prostituzione barattai il mio cocco in quelle due isole con pepe e legno d'aloe e mi recai con altri mercanti alla pesca delle perle dove ingaggiai dei palombari per conto mio essi pescarono per me un gran numero di perle grossissime e perfettissime poi soddisfatto mi rimisi in mare con un'altra nave che approdò felicemente a Bassora di là ritornai a Bagrad dove ricavai grandissime somme di denaro dal pepe dal legno d'aloe e dalle perle che avevo portate distribuì nell'emosina la decima parte del mio guadagno come avevo fatto al ritorno degli altri viaggi e cercai di riprendermi dalle fatiche con ogni sorta di divertimenti terminate queste parole Sindibad fece dare cento dinar a Hindbad il quale si ritirò con tutti gli altri convitati l'indomani la stessa compagnia si trovò in casa del ricco marinaio che dopo aver fatto servire come nei giorni precedenti un pranzo eccellente fece la narrazione del suo sesto viaggio sesto viaggio signori disse loro certamente voi siete ansiosi di sapere come dopo aver fatto cinque naufragi e aver sostenuto tanti pericoli io potessi risolvermi un'altra volta a tentare la sorte e a cercare nuove disgrazie io stesso ne sono meravigliato quando vi rifletto e sicuramente bisogna che io fossi protetto dalla mia stella chi che ne dica dopo un anno di riposo mi preparai a fare un sesto viaggio malgrado le preghiere dei miei parenti ed amici che fecero quanto era in loro potere per trattenermi invece di prendere il cammino verso il golfo persico passai di nuovo per varie province della Persia e delle Indie e giunsi in un porto di mare dove mi imbarcai su un buon naviglio il cui capitano era risoluto a fare una lunga navigazione e il vero fu lunghissima ma al tempo stesso sventurata perché il capitano e il pilota persero la direzione fino a ignorare totalmente dove fossero quando finalmente riuscirono a orientarsi non avemmo motivo di rallegrarsene e restammo attoniti nel vedere il capitano abbandonare il suo posto gridando zettare a terra il suo turbante strappandosi la barba e battendosi in testa come un uomo a cui la disperazione ha sconvolto la mente gli domandammo perché fosse così agitato vi annuncio ci rispose che siamo nel punto più pericoloso del mare una rapidissima corrente trascina la nave e fra un quarto d'ora saremo tutti morti pregate Dio che ci liberi da un simile pericolo da soli non ci sarà possibile sfuggirvi se egli non ha pietà di noi dopo tali parole ordinò di mettere in ordine le vele ma le corde si ruppero nella manovra e la nave senza che fosse possibile opporvisi fu trascinata dalla corrente ai piedi di una montagna inaccessibile contro cui andò a incagliarsi dandoci però il tempo di salvare le nostre persone e di sbarcare i nostri viveri e le nostre merci e Dio ha disposto così qui possiamo scavare le nostre fosse e darci l'ultimo addio perché nessuno di quelli che vi sono stati gettati prima di noi è ritornato a casa tale discorso ci immerse in una mortale afflizione e ci abbracciammo l'un l'altro con le lacrime agli occhi deplorando la sorte infelice la montagna a cui piedi eravamo formava le coste di un'isola molto lunga e vastissima quella costa era tutta coperta dai resti di navigli che vi avevano fatto un naufragio e il grandissimo numero di ossa umane che si vedeva ovunque ci rivelò che moltissimi naufraghi erano morti in quel luogo e ciò ci fece fremere d'orrore era quasi incredibile la quantità di mercanzie e di ricchezze che si presentavano ai nostri occhi da ogni lato ma tutti quegli oggetti servivano solo ad aumentare la desolazione in cui eravamo dappertutto altrove i fiumi escono dal loro letto per gettarsi in mare ma là al contrario un grosso fiume d'acqua dolce si allontanava dal mare e penetrava nella costa attraverso una grotta oscura la cui apertura è estremamente larga e alta ciò che in quel luogo è più straordinario è che i sassi delle montagne sono di cristallo di rubino e di altre pietre preziose vi si vede anche la sorgente di una specie di pece o di bitume che cola nel mare i pesci li inghiottono rendendolo poi tramutato in ambra grigia che le onde rigettano sulla spiaggia che ne rimane coperta vi crescono anche degli alberi d'aloe che non sono certo meno belli di quelli dell'isola di Comarì per completare la descrizione di quel luogo dirò che i navigli non possono allontanarsene una volta che si siano avvicinati infatti se essi sono stati spinti dal vento di mare il vento e la corrente li fanno naufragare e il vento di terra che potrebbe aiutarli ad allontanarsi non soffia mai perché l'altezza della montagna lo arresta e produce una calma che lascia agire la corrente e che li trascina contro la costa dove si schiantano come era accaduto al nostro per colmo di sfortuna non è possibile salire sulla vetta della montagna né fuggire per via di terra restammo sulla riva come gente uscita di senno attendendo la morte di giorno in giorno e fin dall'inizio avevamo diviso i nostri viveri in parti uguali così si può dire che ciascuno vivesse più o meno quanto gli altri secondo la sua resistenza naturale e secondo l'uso che fece delle sue provviste quelli che perirono per primi proseguissino i bad furono sotterrati dagli altri in quanto a me resi gli ultimi onori a tutti i miei compagni e non bisogna meravigliarsi perché oltre al fatto che seppi usare parcamente le provviste che mi erano toccate in sorte ne avevo anche delle altre di cui mi ero ben guardato dal farne parte ai miei compagni pure quando sotterrai l'ultimo compagno mi restavano così pochi viveri che ritenevo di non poter durare a lungo allora scavai da me stesso la mia tomba risoluto a gettarmici da solo da che non sarà più nessuno per seppellirmi mi confesso che nell'occuparmi di simile lavoro non potevo astenermi dal pensare che ero la causa della mia perdita e mi pentivo di essermi impegnato in tale viaggio ma il dio ebbe ancora pietà di me ispirandomi di andare fino al fiume che si perdeva sotto la volta della grotta là dopo averlo esaminato con molta attenzione dissi fra me questo fiume che qui si nasconde sotto terra deve pur uscire da qualche parte costruirò una zattera e vi salirò abbandonandomi alla corrente dell'acqua non c'erò a una terra abitata o morrò se muoio non avrò fatto chi cambiare il genere di morte se al contrario esco da questo luogo fatale non solamente eviterò il destino dei miei compagni ma troverò forse una nuova occasione per arricchirmi chissà che la fortuna non mi aspetti all'uscita di questo infame scoglio per rifarmi ad usura dei danni del naufragio dopo questo ragionamento mi mise a lavorare attorno alla zattera usando buoni pezzi di legno e grossi cavi legandoli insieme così forte da farne un piccolo vascello abbastanza solido quando fu terminato lo caricai di alcune balle di rubini di smeraldi d'ambra grigia di cristallo di rocca e di stoffe preziose avendo messo tutte queste cose in equilibrio e avendole solidamente legate mi imbarcai sulla zattera con due piccoli remi che non avevo dimenticato di fare e lasciandomi trascinare dal corso del fiume mi abbandonai alla volontà di dio appena fui sotto la volta non vidi più luce e la corrente mi trascinò senza che potessi vedere dove mi trasportava navigai per alcuni giorni in quell'oscurità senza mai scorgere un raggio di luce in un'occasione trovai la volta così bassa da esserne schiacciato il che mi rese molto attento a evitare un simile pericolo durante quel tempo razionavo i viveri che mi restavano mangiando solo quanto era sufficiente per sostentarmi ma benché vivessi con frugalità finii per esaurire le mie provviste allora senza che lo potessi impedire un dolce sonno venne ad impadronirsi dai miei sensi non posso dirvi se dormii a lungo ma quando mi svegliai mi trovai con meraviglia in una vasta campagna in riva ad un fiume dove la mia zattera era legata in mezzo a un gran numero di negri mi alzai appena li abbiscorti e li salutai mi parlarono ma io non capivo la loro lingua ero così felice che temevo si trattasse di un sogno persuasomi alla fine di essere desto gridai e recitai questi versi arabi invoca l'onnipotente ed egli verrà in tuo soccorso non c'è bisogno che tu ti incarichi d'altra cosa chiudi gli occhi e mentre dormirai il dio cambierà la tua fortuna da male in bene uno dei miei negri che capiva l'arabo avendomi udito parlare in questo modo si fece innanzi e prese la parola fratello mi disse non siate meravigliato di vedersi noi abitiamo questa campagna e siamo venuti oggi ad irrigare i nostri campi con l'acqua di questo fiume che esce dalla montagna vicina deviandola con piccoli canali abbiamo osservato che l'acqua portava qualche cosa siamo subito corsi a vedere cosa fosse mai e abbiamo trovato che era questa zattera allora uno di noi si è gettato a nuoto e l'ha portata qui l'abbiamo legata come vedete e aspettavamo che vi svegliaste vi supplichiamo di raccontarci la vostra storia che deve essere straordinaria diteci come mai vi siete trovato su questo fiume e da dove venite risposi loro che mi dessero prima da mangiare e che avrei soddisfatto la loro curiosità mi offrirono molte sorte di vivande e quando ebbi placata la fame feci loro una relazione fedele di tutto ciò che mi era accaduto essi mi ascoltarono con molta attenzione appena ebbi finito il mio discorso mi dissero per bocca dell'interprete che aveva tradotto loro ciò che io avevo detto ecco una storia delle più meravigliose bisogna che voi stesso veniate a informarne il re la cosa è straordinaria e non può essergli riferita da altri se non da colui al quale è avvenuta risposi loro che ero pronto i negri mi andarono subito a prendere un cavallo che fu condotto poco dopo mi avviai cavalcando mentre una parte di loro camminava davanti a me mostrandomi la via e gli altri che erano i più robusti mi seguivano dopo essersi caricata la zattera tale quale si trovava col suo carico di balle camminammo tutti insieme proseguì Indibad fino alla città di Serendib perché in quell'isola appunto mi trovavo i negri mi presentarono al loro re mi avvicinai al trono su cui egli stava seduto e lo salutai come si suole salutare il re delle indie vale a dire mi prostrai ai suoi piedi e baciai la terra quel principe mi fece avvicinare e prendere posto vicino a sé mi domandò in primo luogo come mi chiamassi avendogli risposto che mi chiamavo Indibad soprannominato il marinaio a causa dei viaggi che avevo fatto per mare aggiunsi che ero cittadino della città di Bagdad ma egli soggiunse come vi trovate nei miei stati e per dove siete venuto non nascosi nulla al re gli feci lo stesso racconto che ho fatto ora a voi e ne fu così sorprese soddisfatto gli comandò si scrivesse la mia avventura a lettere d'oro per essere conservata negli archivi del suo regno fu recata quindi la zattera e si aprirono le balle in sua presenza egli ammirò la quantità di legno d'alo ed ambra grigia ma soprattutto i rubini e gli sveraldi perché non ne aveva nel suo tesoro di così gran valore notando che egli guardava le mie piastre preziose con piacere e che ne esaminavo le più singolari le une dopo le altre mi prosternai e presi la libertà di dirgli sire non solo la mia persona è a servizio di vostra maestà ma anche il carico della zattera vi appartiene e io vi supplico di disporne come di un bene di vostra proprietà egli disse sorridendo sindibud mi guarderei bene dall'averne il minimo desiderio e dal togliervi nulla di ciò che dio va dato anziché diminuire la vostra ricchezza io voglio accrescerle e non permetterò che usciate dai miei stati senza portare con voi un segno della mia generosità disposi a tali parole facendo voti per la prosperità del principe erodando assai la sua bontà e generosità egli incaricò uno dei suoi ufficiali di avere cura di me e scelse delle persone per servirmi a sue spese quell'ufficiale esegui fedelmente gli ordini del suo padrone e fece trasportare nell'alloggio in cui mi condusse tutte le balle di cui la zattera era carica io andavo ogni giorno a fare visita al re ed impegnavo il resto del tempo a visitare la città l'isola di Serendib è situata precisamente sotto la linea equatoriale quindi i giorni e le notti vi sono sempre di 12 ore la capitale è situata all'estremità di una bella valle a ridosso di una montagna la più alta che vi sia al mondo infatti là si scopre il mare alla distanza di giornate di navigazione vi si trovano il rubino e molte specie di minerali il rimanente è formato di smeriglio pietra metallica di cui si fa uso per tagliare le pietre preziose vi si vede ogni sorta di alberi e di piante rare specialmente il cedro e il cocco si pescano anche le perle lungo le sue coste e all'imboccatura dei fiumi e alcune delle sue valli forniscono il diamante feci pure per devozione un viaggio alla montagna dove secondo la nostra fede fu relegato ad amo dopo essere stato bandito dal paradiso terrestre quando fui tornato in città supplicai il re di permettermi di ritornarmene al mio paese e gli me l'accordò molto gentilmente obbligandomi ad accettare un ricco dono che fece trarre dal suo tesoro quando stavo per prendere commiato da lui mi dette un altro dono ben più considerevole insieme a una lettera che mi incaricò di consegnare al califo nostro sovrano e signore dicendomi vi prego di presentare da parte mia questo regalo e questa lettera al califo Harum e al Rashid e di assicurarlo della mia amicizia io presi rispettosamente il dono e la lettera promettendogli di eseguire puntualmente gli ordini di cui mi faceva l'onore di incaricarmi prima di imbarcarmi quel principe mandò a chiamare il capitano e i mercanti che dovevano fare il viaggio con me e comandò loro di usarmi tutti i riguardi immaginabili la lettera del re di Serendib era scritta sulla pelle di un certo animale molto preziosa a cagione della sua rarità e il cui colore tende al giallo i caratteri di quella lettera erano di colore azzurro ed ecco ciò che conteneva in lingua indiana il re delle indie innanzi a cui marzano mille elefanti che dimora in un palazzo il cui tetto brilla dallo splendore di centomila rubini e che possiede nel suo tesoro ventimila corone ornate di diamanti al califo Arum Ar-Rashid benché il dono che vi mandiamo sia poco considerevole non di meno non dimenticate di accettarlo da fratello in considerazione dell'amicizia che noi nutriamo per voi nel nostro cuore e di cui ci siamo compiaciuti di darvi una testimonianza vi domandiamo di contraccambiare il nostro sentimento e crediamo di meritarlo essendo di grado pari a quello da voi occupato ve ne scongiuriamo in qualità di fratello addio il dono consistiva in un vaso tagliato in un solo rubino scavato e lavorato ad uso di coppa di mezzo piede di altezza e di un dito di spessore pieno di perle rotondissime e tutte del peso di mezza dramma una pelle di serpente che aveva delle scaglie grandi quanto una moneta ordinaria d'oro e la cui proprietà era di preservare dalle malattie coloro che vi si sdraiavano sopra cinquantamila dramme di legno ad aloe eccellente con trenta grani di canfora della grandezza di un pistacchio il tutto era accompagnato da una schiava di una bellezza incantevole le cui vesti erano coperte di pietre preziose la nave si mise in viaggio e dopo una lunga e felicissima navigazione approdammo a Bassora da dove mi recai a Bagdad la prima cosa che feci dopo il mio arrivo fu di adempiere l'incarico che mi era stato affidato presi la lettera del re di Serendib andai a presentarmi alla porta del califo seguito dalla bella schiava e dalle persone della mia famiglia che portavano i doni di cui ero stato incaricato fui subito condotto davanti al trono del califo lo salutai prosternandomi e dopo avergli fatto un discorso molto conciso gli presentai la lettera e il dono quando ebbe letto ciò che gli mandava a dire al re di Serendib mi domandò se fosse vero che quel principe era tanto ricco e potente quanto diceva nella sua lettera mi prostrai per la seconda volta e dopo essermi rialzato gli risposi grande califo posso assicurare la vostra maestà che egli non esagerà affatto le sue ricchezze e la sua grandezza e io ne sono testimonio nulla è più stupefacente della magnificenza del suo palazzo quando questo principe vuol comparire in pubblico si arse in trono su un elefante su cui egli siede e incede in mezzo a due file di ministri di favoriti e di altra gente della sua corte innanzi a lui sullo stesso elefante sta un ufficiale con in mano una lancia d'oro e dietro al trono sta ritto un altro ufficiale che porta una colonna d'oro in cima alla quale c'è uno smeraldo lungo circa mezzo piede ed è lo spessore di un pollice egli è preceduto da una guardia di mille uomini vestiti di drappi d'oro e di seta montati sopra elefanti riccamente coperti mentre il re è in marcia l'ufficiale che è davanti a lui sullo stesso elefante grida di tanto in tanto ad alta voce ecco il gran monarca il potente e formidabile sultano delle indie il cui palazzo è coperto di centomila rubini e che possiede ventimila corone di diamanti ecco il monarca coronato il più grande di quanti furono dopo queste parole l'ufficiale che è dietro al trono grida a sua volta questo monarca grande e possente deve morire deve morire deve morire l'ufficiale davanti ripiglia e grida in seguito lode a colui che vive e che non muore inoltre il re di Serendibba è così giusto che non ci sono giudici nella sua capitale né nel resto dei suoi stati i suoi popoli non ne hanno bisogno essi conoscono e osservano da se stessi la giustizia e non si discostano mai dal loro dovere così i tribunali e i magistrati sono inutili il califo rimase contentissimo del mio discorso la saggezza di questo re disse si mostra nella sua lettera e dopo quanto mi avete detto bisogna confessare che la sua saggezza è degna dei suoi popoli e i suoi popoli degni di essa dopo queste parole egli mi licenziò e mi rimandò con un ricco dono Sindibad a questo punto finì di parlare e fece dare cento dinar a Hindbad ritornarono tutti il giorno seguente e Sindibad raccontò il suo settimo e ultimo viaggio in questi termini Sindibad settimo viaggio a ritorno dal mio sesto viaggio abbandonai assolutamente l'idea di farne altri ero ormai in un'età che esigeva riposo e inoltre avevo promesso a me stesso di non espormi più ai pericoli perciò pensavo solo a passare dolcemente il resto della vita un giorno in cui davo un banchetto a un gruppo di amici vennero ad avvertirmi che un ufficiale del califo chiedeva di me alzai da tavola e gli andai incontro il califo mi disse mi ha incaricato di venirvi a dire che vuole parlarvi seguì al palazzo l'ufficiale e il principe che salutai prosternandomi ai suoi piedi Sindibad mi disse ho bisogno di voi occorre che andiate a portare la mia risposta e i miei doni al re di Serendib è ben giusto che io contraccambi la gentilezza ricevuta il comando del califo fu per me un fulmine a ciel sereno sono pronto gli dissi a eseguire tutto ciò che mi ordinerà la vostra maestà ma vi supplico umilmente di pensare che sono indebolito dagli incredibili travagli sofferti e ho fatto voto di non uscire più da Bagdad presi da ciò occasione per narrarvi minutamente tutte le mie avventure ed egli ebbe la pazienza di ascoltarmi fino alla fine appena ebbe cessato di parlare disse confesso che questi avvenimenti sono straordinari ma non bisogna che vi impediscano di fare per amor mio il viaggio propostovi trattandosi solo di andare all'isola di Serendib per eseguire la commissione che vi darò dopo ciò sarete libero di ritornare qui ma bisogna andarci poiché non sarebbe consono al mio decoro e alla mia dignità di rimanere obbligato al re di quell'isola siccome vidi che il califo esigeva ciò in modo assoluto gli dissi che ero pronto ad obbedirgli ne ebbe molta gioia e mi fece dare mille dinar per le specie di viaggio in pochi giorni mi preparai alla partenza e appena ricevuto i doni del califo con la lettera di sua propria mano partii e presi il cammino di Bassora dove mi imbarcai la navigazione fu ottima e giunsi all'isola di Serendib l'aggiunto esposi ai ministri la commissione di cui ero incaricato e li pregai di farmi dare udienza senza indugio il che fecero fui così condotto con tutti gli onori al palazzo e salutai il re prosternandomi secondo l'uso il principe mi riconobbe al primo sguardo e dimostrò grande gioia nel rivedermi ah Cindy Budd mi disse fate il benvenuto vi giuro di avere pensato spessissimo a voi dopo la vostra partenza benedico questo giorno in cui ci vediamo di nuovo gli feci i miei complimenti e dopo averlo ringraziato della sua bontà gli presentai la lettera e il dono del califo che gli ricevette con tutti i segni di una grande soddisfazione il califo gli inviava un letto completo di drappo d'oro valutato mille dinar cinquanta vesti di una stoffa ricchissima ed altre cento della più fine tela bianca del Cairo di Suez di Cuba e di Alessandria un altro letto cremisino e un altro di un'altra maniera un vaso d'agata più largo che profondo dallo spessore di un dito e dalla larghezza di un piede il cui fondo rappresentava in basso rilievo un uomo con un ginocchio a terra armato di arco e di una freccia sul punto di tirare contro un leone gli mandava infine una ricca tavola che si credeva per tradizione provenire dal gran Salomone la lettera era concepita in questi termini saluta in nome della suprema guida del retto cammino al possente e felice sultano da parte di Abdallah Harun Arraschid che il Dio ha posto nel posto d'onore dopo i suoi antenanti di felice memoria noi abbiamo ricevuto con gioia la vostra lettera e vi mandiamo questa emanata dal consiglio della nostra porta giardino delle menti elevate noi speriamo che nel gettarvi gli occhi sopra conoscerete la nostra buona intenzione e la gradirete addio il re di Serendib ebbe un gran piacere vedendo che il califo aveva corrisposto alla sua amicizia poco tempo dopo questa udienza io feci in modo di averne un'altra per chiedere commiato ebbe qualche difficoltà ad ottenere il permesso di partire ma l'ottenne alla fine e il re nel congedarmi mi fece un dono molto considerevole mi imbarcai subito con l'intenzione di ritornare a Bagdad ma non ebbi la fortuna di giungervi come speravo Dio dispose altrimenti tre o quattro giorni dopo la mia partenza fummo assaliti dai corsari che si impadronirono della nostra nave perché non eravamo in nessun modo in condizione di difenderci alcune persone dell'equipaggio vollero fare resistenza ma persero la vita io e tutti quelli che ebbero la prudenza di non opporsi al disegno dei corsari fummo fatti schiavi dopo che i corsari ci ebbero spogliati e rivestiti di abiti logori in luogo dei nostri ci condussero in una grande isola molto lontana dove ci vendettero io caddi tra le mani di un ricco mercante il quale appena mi ebbe comprato mi condusse a casa sua dove mi fece mangiare bere e vestire da schiavo alcuni giorni dopo dato che non si era ancora informato su chi fossi mi domandò se conoscevo qualche mestiere gli risposi senza farmi conoscere meglio che non ero un artigiano ma un mercante e che i corsari non mi avevano venduto mi avevano tolto tutto quello che possedevo ma ditemi e gli riprese non potreste tirare con l'arco gli dissi che lo avevo fatto nella mia giovinezza e che non l'avevo dimenticato allora mi diede a un arco e delle frezze e avendomi fatto salire dietro di lui su un elefante mi condusse in una foresta lontana dalla città qualche ora di cammino e la cui estensione era enorme si inoltrammo molto e quando giudicò opportuno fermarsi mi chiese di scendere poi mostrandomi un grande albero mi disse salite su quell'albero e tirate agli elefanti che vedrete passare e che sono numerosissimi in questa foresta se ne cade qualcuno venite ad avvertirmene dopo avermi detto questo mi lasciò dei viveri e riprese il cammino della città io restai sull'albero alla posta per tutta la notte non scorsi nessun elefante ma all'indomani appena solse il sole ne vidi comparire un gran numero scagliai parecchie frezze e infine un elefante cadde a terra gli altri si ritirarono e mi lasciarono la libertà di andare ad avvisare il mio padrone della caccia che avevo fatta in ricompensa di questa notizia mi regalò un buon pranzo lo dò la mia destrezza e mi fece molti complimenti quindi andammo insieme nella foresta a scavare una fossa in cui sotterrammo l'elefante ucciso il mio padrone si proponeva di ritornare quando l'animale fosse imputridito per portare via le zanne e venderle continuai per due mesi quella caccia e non passava giorno in cui non uccidessi un elefante mi mettevo sempre alla posta sul medesimo albero ma ora sull'uno ora sull'altro un mattino mentre aspettavo l'arrivo degli elefanti mi accorsi con estremo stupore che invece di passare davanti a me attraversando la foresta come al solito si dirisevano verso di me con orribile fracasso pensi gran numero che la terra ne era coperta e tremava sotto i loro passi si avvicinarono all'albero su cui mi ero arrampicato e lo accerchiarono con le probosci di tese e gli occhi fissi su di me ma quello spettacolo sorprendente rimasi immobile preso da tale spavento che l'arco e le frezze mi caddero dalle mani e non ero agitato da vano timore perché dopo qualche momento un elefante più grosso circondò la parte inferiore dell'albero con la proboscide e con uno sforzo possente riuscì a sradicarlo e a rovesciarlo a terra caddi insieme all'albero ma l'elefante mi afferrò con la proboscide mi caricò sul dorso dove mi sedetti più morto che vivo col turcasso appeso alla spalla esso si pose quindi alla testa di tutti gli altri che lo seguivano in branco e mi portò fino ad un luogo dove avendomi posto a terra si ritirò con tutti quelli che l'accompagnavano immaginate lo stato in cui ero credevo di sognare finalmente dopo essere stato qualche tempo steso in quel luogo non vedendo più alcun elefante mi alzai e guardai intorno ero su di una collina tutta coperta d'ossa e di denti di elefante mi confesso che quella vista mi fece fare un'infinità di riflessioni ammirai l'istinto di quegli animali e fui convinto che quello era il loro cimitero e che mi avevano condotto là a bella posta per mostrarmelo affinché cessassi di perseguitarli poiché io lo facevo solo per avere le loro zanne non mi fermai sulla collina volsi i passi verso la città e dopo aver camminato un giorno e una notte giunsi a casa del mio padrone non incontrai nessun elefante lungo il cammino e ne dedussi che si fossero allontanati più addentro nella foresta per lasciarmi in perfetta libertà appena il mio padrone mebbe scorto mi disse ah povero Cindy Bud ero in grande ansietà perché non sapevo che ne era stato di te sono andato nella foresta ho trovato un albero lo sradicato un arco e delle frecce per terra e dopo averti inutilmente cercato disperavo di rivederti raccontami te ne prego ciò che ti è capitato e per quale ventura sei ancora in vita soddisfeci la sua curiosità e il giorno appresso essendo andati tutti e due sulla collina constatò con estrema gioia che gli avevo detto la verità caricammo l'elefante sul quale eravamo venuti con quante zanne poteva portare e quando fummo di ritorno fratello mi disse poiché non voglio più trattarti da schiavo dopo che hai fatto una scoperta che dovrà arricchirmi dio ti colmi di ogni sorta di bene e di prosperità io dichiaro davanti a lui e ti rendo libero fin da questo istante gli elefanti della nostra foresta causano la morte ogni anno di un'infinità di schiavi mandati da noi a cercare avorio per quanti consigli possiamo dare loro e si perdono presto tardi la vita vittime dell'astuzia di questi animali il dio ti ha liberato dalla loro furia e questo è un segno che ti ama che il mondo ha bisogno di te perché devi fare del bene tu mi hai procurato un incredibile vantaggio finora non abbiamo potuto avere l'avorio se non esponendo la vita dei nostri schiavi e ora ecco tutta la nostra città arricchita per mezzo tuo non credere che io pretenda di averti ricompensato donandoti la libertà voglio aggiungere a questo dono dei beni considerevoli potrei invitare tutta la città e contribuire alla tua fortuna ma è questo un onore che voglio avere io solo a questo discorso risposi padrone dio vi conservi la libertà accordatami basta largamente per sdebitarvi verso di me e per unica ricompensa del servizio che ho avuto la fortuna di rendere a voi e alla vostra città vi domando il permesso di ritornare al mio paese ebbene replicò il monsone porterà qui ben presto delle navi che verranno a caricare avorio io allora ti lascerò partire non ringraziai di nuovo della libertà datami come pure delle buone intenzioni che aveva per me restai a casa sua attendendo il monsone e durante quel tempo facemmo tanti viaggi alla collina da riempire i suoi magazzini d'avorio tutti i mercanti della città fecero lo stesso poiché la cosa non restò nascosta le navi alla fine arrivarono e il mio padrone avendo gli stesso scelto quella sulla quale dovevo imbarcarmi la caricò d'avorio per conto mio non si dimenticò di farvi mettere delle provviste in abbondanza per il viaggio e inoltre mi obbligò ad accettare dei regali di gran prezzo fra le rarità del paese dopo averlo ringraziato quanto mi fu possibile di tutti i benefici che avevo ricevuti da lui mi imbarcai partimmo e siccome l'avventura che mi aveva procurato la libertà era davvero straordinaria io ne avevo la mente incessantemente occupata si fermammo in alcune isole per riposare la nostra nave partita da un porto delle indie vi stava tornando trassi dalla vendita del mio avorio una grossa somma di denaro comprai parecchie cose rare per farne dei regali indi mi unì a una grossa carovana di mercanti e giunsi felicemente a Baghdad andai prima ad ogni altra cosa a rendere conto al califo della mia ambasciata egli mi disse che era stato molto inquieto per la durata del mio viaggio quando gli raccontai l'avventura degli elefanti ne parve molto meravigliato e avrebbe rifiutato di prestarvi fede se la mia sincerità non gli fosse stata nota trovò questa storia e le altre così curiose che incaricò uno dei suoi segretari di scriverle in caratteri d'oro per essere conservate nel suo archivio mi ritirai contentissimo dell'onore e dei doni che avevo ricevuti e poi mi dedica interamente ai miei parenti e agli amici così Cindy Budd terminò il racconto del suo settimo e ultimo viaggio evolgendosi quindi a Hind Budd ebbene amico mio soggiunse avete mai udito che qualcuno abbia sofferto al pari di me non è forse giusto che dopo tanti travagli io goda ad una vita piacevole e tranquilla appena proferite queste parole Hind Budd gli si accostò e baciandogli la mano disse signore avete sopportati orribili pericoli e le mie pene non sono paragonabili alle vostre se esse mi affliggono me ne consolo col piccolo profitto che trago voi meritate non solo una vita tranquilla ma siete degno anche di tutti i beni immaginabili poiché ne fate buon uso e siete tanto generoso continuate dunque a vivere nella gioia fino all'ora della vostra morte Cindy Budd gli fece dare altri cento dinar e lo trattò come un amico gli disse di abbandonare il mestiere di facchino e di continuare a venire a mangiare tutti i giorni da lui Sire disse Sharazad alla fine del racconto già ho avuto occasione di raccontarvi una uscita in incognito del califo Harun al Rashid di notte devo però assolutamente raccontarvene un'altra Grazie a tutti lachau Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti